ragazze e ragazzi ciao e benvenuti su investing guide come potete immaginare oggi domenica 12 scusate 11 dicembre del 2022 cerchiamo di analizzare un attimo la chiusura della settimana settimana che vede naturalmente un andamento piuttosto che guardandolo anche a candela giornaliera dell'attuale grafico che mostra praticamente il plus netto di tutti gli exchange per quanto riguarda bitcoin stesso discorso credo analogo mettiamo un attimo per ethereum vediamo se ether ha lo stesso andamento praticamente come potete vedere c'è stato solo una candela verde quindi di ingresso in flow e ma la maggior parte sono tutti in uscita in outflow flusso out quindi praticamente a livello netto da diversi giorni abbiamo una quantità di criptovalute sia bitcoin che che fuoriesce dal mercato degli exchange naturalmente andiamo avanti per capire un po in dettaglio meglio ulteriori informazioni praticamente se dovessimo andare a visualizzare su go charting grafico che mostra anche il volume profile vediamo che comunque sia siamo nel in una zona di prezzo ampiamente al di sotto come potete osservare del massimo punto di controllo che si intorno ai 20.000 dollari 19.100 per la precisione e attualmente praticamente ci troviamo ben al di sotto al di sotto quindi che se dovessimo andare a fare una valutazione se dovessimo andare a visualizzare una media mobile che praticamente mostra una sorta di campana gaussiana ossia di distribuzione probabilistica di dove si potrebbero concentrare i potenziali lotta potenziale lotta tra buyer e seller mostra praticamente un valore intorno agli 8.700 dollari in cui il prezzo di bitcoin potrebbe andare giù inoltre andando a visualizzare su linee misure quindi lo vedete qua dove c'è la matita avete la possibilità su go charting quindi andare a visualizzare così come per training view l'informazione del date e price range ossia la possibilità di selezionare qual è il punto di massima quindi qual è la percentuale di caduta attuale vediamo che attualmente siamo intorno al 74,79 per cento ma allora qual è il valore massimo per cui potrebbe collassare nell'intorno del 9.000 dollari in cui vi ho indicato e presento il punto di controllo bene se volessimo andare a selezionare quel punto di minimo eccolo qui circa 86 per cento che presente corrisponde a un valore in cui prezzo di solito ha butto nella storia dei collassi periodici intorno all 80 85 90 per cento e quindi è una cosa praticamente normalissima nei periodi di bill market che durano ampiamente un certo periodo considerando per esempio nel periodo del 2017 andiamo a vedere un attimo il periodo del 2017 dovrebbe essere intorno a questo eccoci qua come potete osservare il prezzo collassò vediamo qual è la linea della percentuale dal punto di picco di massimo fino al punto di minimo eccoci qua collassò dell'86 per cento vedete che sto vedendo presente il punto di minimo intorno ai 3.000 dollari naturalmente poi c'è stato naturalmente un altro periodo 2019 in cui è salito però non si è arrestato che poi ha lateralizzato dal 2019 fino al 2020 per poi andare a subire questa salita quindi ragazzi c'è da dire che è una cosa abbastanza normale per bitcoin compiere questi movimenti naturalmente nel periodo del bill market andiamo un attimo a visualizzare su crypto panic eventuali aggiornamenti di informazioni vediamo potenzialmente più o meno rilevanti vediamo cosa c'è di interessante e beh diciamo che sono tutte naturalmente le notizie come q coin che annuncia la terza parte di verifica del proof of reserve con le procedure che ha fatto sei giorni fa ossia mazzard che vediamo dovrebbe essere l'auditor conosciuto che praticamente viene abbracciato un po' da tutti vedete potete selezionare mazzard dovrebbe essere mazzard vediamo un attimo di selezionare no thanks ecco mazzard's group mg e quindi effettivamente confermato quello che dicevamo invece nelle ultime giornate abbiamo che rt praticamente mette il tuo wombat al lavoro per effettuare uno staking su q coin e guadagnare 50% di apr e questa è un'offerta a tempo limitato che si ha per quanto riguarda q coin vedete c'è praticamente su questo twitter di wombat che dà delle informazioni per far lavorare in staking q coin guadagnare un 50% su questo wombat flexible promotion una promozione praticamente di staking di q coin poi naturalmente c'è anche sempre q coin che si può vincere 100.000 nftb ai primi naturalmente 25 utenti che condividono i reward degli nft pool vengono fornite naturalmente la possibilità di vincere quindi ci sono praticamente informazioni relative a q coin che è abbastanza presente nelle informazioni degli ultimi giorni vedete anche q coin acquisisce l'auditor con mazzard's gm per quanto riguarda il proof of reserve quindi tutto di positivo poi c'è una notizia che è fuori dal discorso di q coin quindi binance ceo champagne zao prende una un'informazione prende praticamente in giro kaken e q coin vedete qua c'è un praticamente articolo che si è aperto un articolo presente naturalmente come tweet di twitter dove praticamente si parla di champagne zao che sfotte praticamente il q coin e kra che naturalmente champagne zao essendo il dirigente del più grande exchange di criptovalute ha un certo modo di fare non so se tipico del sistema come bankman fried e comunque abbiamo anche negli ultimi giorni delle informazioni relative all'ash key e i seba bank che si uniscono con coin assume mazza per la prova della verifica di riserva birgett lancia la pagina del proof of reserve lo strumento di autocontrollo che l'utente può effettuare direttamente al suo interno diciamo tutto questo è dovuto al fatto che per paura la gente si è spostata su strumenti come ledger per archiviare e custodire i propri le proprie criptovalute in maggiore sicurezza visto che stiamo parlando abbastanza tanto di q coin delle sue aggiornamenti a punto di vista magari degli investimenti o degli stake o del reward parliamo anche delle nuove strategie che potrete trovare all'interno della vostra app di q coin del termine del vostro telefonino una strategia chiamata martingala o martingale naturalmente in inglese che praticamente sfrutta il riacquisto a profondità maggiori nel caso in cui si stia parlando di mercato per esempio come quello ribassista per praticamente ottimizzare il nel caso poi di una risalita la vendita di quantità sempre maggiori diciamo che è identificato dall'esempio sotto riportato c'è scritto round 1 2 3 4 5 6 dove eventuali sei discese 10 10 poi successivamente 20 40 raddoppio 80 e così via permettono di eventualmente andare a recuperare nel caso in cui poi il prezzo vada a ritracciare di nuovo verso l'alto sono delle strategie naturalmente basate sul discorso spot ed è legata anche a un discorso di dollar cost average come metodo naturalmente di accumulo di quantità perché comunque sia nel caso in cui voi non vogliate vendere ma state accumulando perché il prezzo va sempre più giù e comprate progressivamente vi rimane in mano comunque sempre bitcoin quindi o etenium naturalmente vi si suppone che voi siate lungimiranti nel scegliere criptovalute con un certo peso per accumulare qualcosa che ha una certa valenza rispetto alla massa che tutti conoscete naturalmente ci sono strategie con la martingale naturalmente ai primi 100 like che otterrò su questo video fornirò naturalmente la possibilità di una strategia ad hoc sfruttando naturalmente il martingale diretto o inverso che ferrò naturalmente una diretta dove dirò io e quindi voi mi dovrete seguire dove lascerò naturalmente il piano con tanto di tabella excel che vi potrò anche fornire e girare dove poi potrete utilizzare sarà naturalmente sulla base di tutti cioè potrete effettuare questo tipo di movimenti martingale sia che ci sia un ribasso naturalmente anche dell'80-90% e quindi in base a quelle condizioni calcolato tutto in modo tale che vi permette di effettuare questo tipo di ragionamento cosa che purtroppo nell'app di martingale di kucoin non potete sfruttare quindi è un discorso manuale e poi vi dirò naturalmente come automatizzare eventuale tutto ma naturalmente 100 like altrimenti non mi muovo devo essere naturalmente in grado di capire che è vostro interesse trovare delle strategie per ottimizzare anche nel mercato ribassista ma se non ottengo questi like vuol dire che l'argomento non vi interessa concludiamo naturalmente una statisticità del mercato della capitalizzazione complessiva intorno a sotto i 900 miliardi di capitalizzazione ethereum siamo intorno al 37 da 17 ma voglio naturalmente verificare dei trend su trading view su bitcoin 40,63% e poi ethereum dominance abbiamo una dominance del 19,17% quindi non fidatevi sempre naturalmente anche dei siti come coin gecko o coin market cap verificate e come faccio io verificate sempre di vostra di vostro peso di vostra mano se realmente quelle informazioni sono corrette la classifica naturalmente vede bitcoin primo posto ethereum secondo tetra terzo posto bnb quarto dollaro circle naturalmente siamo con molta presenza di stablecoin vedete c'è anche binance dollaro a sesto posto ripple settimo posto dogecoin ottavo cardano nono polygon matic decimo che risale la china naturalmente undicesimo polkadot lido alla dodicesima posizione che naturalmente si occupa proprio dello staking di ether che vi fornisce naturalmente st ether in cambio del deposito di ether naturalmente ethereum 2.0 a breve ci sarà anche la possibilità di prelevare i fondi messi in stake tredicesimo posto per litecoin 14 shiba inu okb token utility dell'exchange okx alla quindicesima posizione ragazzi naturalmente questa è la situazione che abbiamo purtroppo non è positiva cercheremo comunque all'inizio settimana di fare un piano di analisi sulle principali criptovalute quelle che stanno naturalmente migliorando quelle che stanno o anche magari lateralizzando e quindi cercheremo di mostrarvi una situazione complessiva delle principali criptovalute che stanno performando peggio o meglio credo che oggi la giornata mostri naturalmente una situazione un pochino così bloccata dal mercato contingente vediamo un attimo che il dollaro a livello macroeconomico si sta muovendo sempre verso il basso quindi c'è un po di fiato per il mercato delle criptovalute proprio perché sta scendendo al di sotto della sua media mobile a 200 periodi però naturalmente poca cosa perché comunque dobbiamo sempre valutare il fatto che ci ritroviamo sempre un mercato ribassista dove ci sono pochi afflussi di di volumi nel mercato delle criptovalute causati proprio dalla paura di quello che è accaduto sia con luna in precedenza e poi successivamente con ftx e quindi anche gli investitori quelli in retail quelli che hanno poco ma sono in tanti a voler mettere da parte qualcosa stanno aspettando probabilmente magari ci credono ma stanno aspettando probabilmente il prossimo discesa quella che porterebbe bitcoin a quel valore che io non sto auspicando però potenzialmente in un mercato dove si muove praticamente di poco al rialzo e poi scende poi rialza e poi scende in picchiata di nuovo quindi sta facendo soltanto questo e capisco che chi non è mai entrato nel mercato e magari si presenta solo quest'ultimo anno per vedere un bitcoin che passa da 18.000 a 25.000 poi sembra quasi di dover comprare perché adesso salirà verso to the moon invece vedete come da 25.000 ci ritroviamo di nuovo a 17.000 quindi vuol dire che ci sono delle logiche che uno deve conoscere prima di effettuare degli acquisti perché se uno detiene a lungo periodo comprare a 18 e arrivare a 25 e poi trovarsi di nuovo sotto il negativo non è sicuramente molto bello per nessuno quindi ragazzi attenzione sappiate come si sta muovendo guardando il grafico il grafico dice piccola salita profonda discesa piccolo ritracciamento verso l'alto di salita profondissima discesa quindi 70.000 attanto i prossimi step saranno 12.000 prima di tutto 16.000 qua poi 12.000 9.000 vedremo se questi saranno verificati ma per poter dire di no a questi valori e bitcoin deve superare come minimo 23.000 dollari che sarebbe praticamente al di sopra della media mobile andare a testare naturalmente i valori ai 25.000 che ho individuato in questo tratteggio viola e da così se si muoverà lateralmente poi potrebbe ritestare successivamente nuovi massimi di resistenze per cercare di far capire ai propri investitori che quello è l'indirizzo e quella è la volontà dei buyer cioè di far spingere il prezzo verso alto per il momento non abbiamo volumi per il momento vedete anche il situazione che è sempre di bassista ci sta muovendo soltanto lateralmente all'interno di un canale che va dai 17.300 a 15.400 se sfonderà questi valori indubbiamente ci muoveremo al di sotto verso queste indicazioni che vi ho dato con le barre gialle spero di essere stato utile rimaniamo sempre con i 100 like per ottenere quello che vi ho promesso che sicuramente per tutti molto interessante quindi pronti ai 100 like e quando arriveranno arriveremo a 100 like effettuerò questo regalo molto interessante come strategia per guadagnare in qualunque condizione beer market o bull market tramite una soluzione ad hoc della quindi modificata da sottoscritto di martingala ciao e grazie alla prossima